La via della seta è una grande opportunità perché è un'idea ed è l'idea che contrasta il modello che ci sta portando al declino, quello della cartolarizzazione di tutto per fare i soldi facili in breve tempo attraverso i circuiti finanziari. L'economia reale, cioè la Cina ritorna a Keynes, ritorna a Marx, ritorna allo sviluppo delle forze produttive e a livello internazionale lo fa con l'idea della stabilizzazione e non della destabilizzazione. Quindi non devo destabilizzare per controllare, quello è il progetto predatorio e imperialista, ma devo stabilizzare per dare sicurezza a casa. Quindi attenzione, non è solo l'interesse di prendere le risorse e avere nuovi mercati di sbocco per i loro nuovi prodotti industriali, ma è il discorso di creare sicurezza a casa, perché un mondo più stabile per un paese che contiene il 20% della popolazione mondiale è un mondo che garantisce a loro prospettive per il futuro, altrimenti più conflitti ci sono, più questo va a inficiare sulla Cina, che temporaneamente può approfittarsi di certe situazioni, ma non è la logica di acuire scontri e destabilizzazione. Questo noi vediamo e da qui nasce il consenso verso la Cina.